Non c'è solo l'avvio del cantiere per realizzare il prolungamento della metropolitana leggera di Salerno verso l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano-Faiano nelle buone notizie che attendono il comune capoluogo e di collegamenti su ferro. All'annuncio ufficiale fatto ieri da RFI della giudicazione dei lavoro al gruppo Eteria Consorzio Stabile RCM Costruzioni Brancaccio e Generale Costruzioni Ferroviarie per un valore di 170 milioni di euro finanziati in parte anche con fondi PNRR che consentirà di allungare la metropolitana da Salerno verso l'aeroporto con quattro nuove stazioni si aggiunge anche un'altra buona notizia. La vera svolta per la metropolitana leggera è infatti attesa a gennaio. Subito dopo lo spegnimento delle luci d'artista si potrà partire con l'intervento degli interventi in grado di rappresentare la rivoluzione per il servizio di metropolitana di Salerno. Il lavoro cioè per eliminare il semaforo che ferma il treno prima dell'arrivo alla stazione di Salerno legata all'utilizzo di un altro binario. Sarà necessario fermare del tutto i treni della metro per diversi mesi ma durante la pausa si potrà intervenire anche per realizzare l'atteso sottopasso della cittadella giudiziaria. A fare il punto dei prossimi lavoro e di quelli in corso è stato stamani il presidente della Commissione Trasporti della Regione Campagna, Luca Cascone. Si sta completando anche la rete infrastrutturale che coinvolge l'aeroporto di Salerno perché non è solo l'infrastruttura aerea ma anche la viabilità e il collegamento ferroviario con la metropolitana. Quattro nuove stazioni, Asi, Nuovo San Leonardo, Ponte Cagnano Centro e un'altra fermata a Ponte Cagnano prima di arrivare all'aeroporto. Quindi diventerà un collegamento importante anche per i cittadini del territorio che si potranno muovere verso il capoluogo. Nel capoluogo si sta facendo un lavoro importantissimo che è quello del superamento del semaforo che blocca la tempistica di percorrenza della metropolitana. Quindi al termine anche di questi lavori che saranno a metà 2024 avremo anche una riduzione dei tempi di percorrenza che è il vero svolto per questa metropolitana. Avendo noi lavorato sull'elettrificazione della Salerno Avellino noi avremo una metropolitana che partirà da Bellizzi dall'aeroporto e arriverà fino ad Avellino e quindi passerà per l'Università dove là si sta presentando un altro progetto per il collegamento diciamo pedonale meccanizzato dalla stazione di Fisciano verso l'Università. Parlavo anche del sottopasso verso la cittadella giudiziaria. Sì questo è estrettamente connesso ai lavori che stiamo facendo al semaforo si potrà in quella fase in cui verrà interrotta ovviamente la circolazione si potrà scavare sotto i binari e fare l'ultimo tratto che è quello che poi sboccherà dalla piazza Ferrovia, da piazza Vittorio Veneto verso la cittadella giudiziaria. C'è attesa per le vie del mare, due bandi della regione Campania non hanno trovato risposta, il sindaco di Agropoli sperava che almeno per il mese di agosto si trovassero una soluzione, cosa può dirci? Noi abbiamo fatto una riunione importante con i comuni del Cilento per chiedere un periodo in cui effettuare un percorso di affidamento diretto per garantire un minimo di servizio. Venerdì è arrivata la proposta della Caremar, ora abbiamo un altro problema tecnico che è quello del pescaggio di queste navi all'interno dei porti del Cilento perché le navi della Caremar sono più grandi di quelle che hanno svolto il servizio l'anno scorso, cioè pescano di più e quindi devono fare delle prove perché probabilmente non riescono a entrare in tutti i porti e quindi dopo che faranno questa verifica tecnica potremo valutare se il servizio tra virgolette varrà la pena farlo oppure saranno pochi i porti che possano accogliere queste navi e quindi a questo punto si sospenderà l'attività.